Assegnato a Gragnano il premio dedicato a Michele Cavaliere, imprenditore ucciso dalla Camorra per essersi ribellato al pizzo promosso dall'associazione SOS Impresa. Il riconoscimento è andato quest'anno a Maria Antonietta Troncone, procuratore della Repubblica di Napoli Nord, a Nicola De Tullio, colonnello dei Carabinieri, a Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis, al collega Vincenzo Perone della TGR Campania, a Gian Felice Imparato, attore e suo Rita Giaretta, fondatrice della Casa Rutta. Un riconoscimento speciale è stato inoltre assegnato alla memoria di Maurizio Medaglia, commerciante di Agerola, ucciso nel 1991 per aver denunciato i suoi estorsori.